Oggi siamo qui al telecontrollo per presentare una piattaforma di gestione dell'energia che si chiama Deop. Questa piattaforma permette non solo di monitorare gli asset ad essa connessi, ma anche di gestirli in maniera ottimizzata, creando un vero valore aggiunto per le imprese, una maggiore profittabilità e sostenibilità. Inoltre riesce anche ad essere un supporto per tutti quei soggetti come gli aggregatori che si interfacciano ai nuovi mercati dell'energia attraverso l'offerta di flessibilità nei mercati, andando a supportare con questi servizi le reti per una maggiore stabilità di esse. È una piattaforma sviluppata in Italia, per l'Italia, da un team di ingegneri e sviluppatori e sicuramente si basa su obiettivi di sviluppo sostenibile in linea con gli obiettivi delle Nazioni Unite.